gentili amici buongiorno sono max e oggi ho pensato di farvi vedere come si può sfilettare un pesce sfilettare un pesce significa spendere meno esiste in commercio dei pesci già sfilettati però ovviamente hanno un costo diverso non è difficile fare questo procedimento serve un po prenderci la mano e l'attrezzatura giusta io in questo caso mi sono procurato degli sgombretti monoporzioni che come vedete ho già pulito però per fare questa operazione serve un coltello come questo a lava molto fine che si chiama coltello per sfilettare coltello per sfilettare che cosa sono le caratteristiche di questo tipo di coltello intanto come potete vedere la flessibilità della lama perché la lama essendo molto fine appuntita è molto flessibile quindi quando io andrò a inserire la lama nel pesce per andare a togliere la lisca centrale e formare un unico filetto aperto andrò a togliere pochissimo residuo di polpa per quasi limitando la zero quindi a questo punto procurandoci un coltello di questo tipo non coltelli a lama larga non coltelli a lama spessa perché andrete prima rovinare il pesce e secondo tanta polpa resterà attaccata alla l'alisca centrale in questo caso io ho già pulito il pesce aprendo la pancia togliendo tutte l'inter di ora l'ho già lavato inizio ad incidere la lama sul retro dove è terminato il taglio e vado a tagliare senza andare troppo in profondità seguendo il taglio la lama del coltello fino alla coda in questo caso io riesco a penetrare vicino alla lisca centrale del pesce quindi in questo caso sono sulla lisca centrale non devo altro che proseguire dall'altra parte posso aiutarmi anche a girare il pesce in questo modo seguire sempre la linea della colonna vertebrale andando piano piano a staccare la polpa al suo interno seguendo sempre la traccia iniziale una volta arrivato vicino alla testa sono arrivato quasi dall'altra parte questa operazione si fa molto delicatamente perché comunque non devo andare a tagliare il filetto quindi in questo caso io posso separare la testa dal corpo facendo un taglio leggermente obliquo da una parte entrando dalla dalle branche per per non buttare troppa polpa e dall'altra parte vado a eliminare la testa che andrò a togliere a questo punto mi resta solo il corpo in questo caso vado ancora a seguire la lisca centrale e mi trovo il filetto completamente aperto ora resta il fatto che dobbiamo andare a togliere l'altra parte che questa è la parte un po' più difficile quindi mi prendo il pesce da questa parte lo vado a sollevare dalla parte infilando leggermente il coltello sotto la lisca centrale poi una volta alzata la lisca centrale giro il filetto dalla parte inversa seguo con il coltello tenendo alta la lisca centrale vado con la lama leggermente inclinata verso l'altro senza andare a spezzarla a fare un leggermente un movimento leggermente orizzontale in modo da andare a togliere completamente la lisca fino in fondo tante volte diciamo che sul pesce fresco si fa abbastanza velocemente quindi continuo ad andare a seghettare quando arrivo in fondo alla coda trascino leggermente il filetto inclino la lama verso il basso e vado a togliere la lisca centrale come potete vedere io ho eliminato la lisca non c'è nessuna o pochissima traccia di polpa attaccata alla lisca e io ho separato la lisca dal filetto ora non mi resta che prendere e ripulire bene il filetto in questo caso ci sono ancora delle lische attaccate sulla polpa che poi con una pinzetta metallica si possono togliere ma si possono anche andare a togliere con il coltello facendo una leggera un leggero taglio obliquo in questo modo dove pian piano perché sono molto superficiali vado a togliere l'eccesso anche questa parte qua posso andare eliminarla quindi eliminiamo la parte di qua mentre dall'altra parte non troverete lisca e le troverete solo in questo punto che si possono poi togliere durante quando lo consumiamo dopo che è stato cotto o se proprio uno vuole tirarsele via può anche andare con una pinzetta tipo esempio quella sopracciglia ma esistono delle pinzette della cucina per andare a togliere tutte le spinette io in questo caso ho pulito un filetto il filetto è pronto per essere cucinato in questo caso io non posso farlo perché parliamo di un pesce con una pelle molto fine e liscia quindi non serve se dovessi però andare a sfilettare un altro tipo di pesce con le squame con una pelle molto più più dura partirei da questa parte ma comunque ve lo farò vedere anche in un altro video e partirei da questa parte con il coltello andrei a fare una piccola incisione fino arrivare alla pelle e inclinando il coltello e facendo sempre di solito movimento come prima vado fino in fondo e la pelle resta semplicemente tolta senza residui di carne io vi ringrazio per l'attenzione spero che questo video sia utile e possa aiutarvi anche a casa quando cucinate e vi ringrazio e ci vediamo alla prossimo video ciao a tutti e buona giornata max